ed eccoci alla soluzione di questo gioco di questo enigma che potete fare a casa con gli amici farlo da vostri genitori allora per far sì che la freccia vada da un'altra parte possiamo far andare una freccia qua una freccia la una freccia in basso come basta prendere queste tre monete le tre monete esterne alla freccia quindi una volta apese dobbiamo rimetterla a posto quindi facciamo una feccia in basso una due e tre ed ecco qua la freccia e ora prima la sopra ora in basso quindi l'enigma è solamente queste tre monete esterne una volta che abbiamo questa parte centrale possiamo sbizzarrirci a fare la freccia ovunque dove a noi piace questa è la soluzione delle monete